Novena a San Charbel, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oh, luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpo. Lava ciò che è sortito, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelito, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Oh, San Charbel, martire della vita monastica, che hai fatto esperienza del dolore del corpo e dell'anima. Di te ha fatto Dio e il Signore un faro luminoso. Corro a te e ti prego di chiedere a Dio, per intercessione, questa grazia. Nominare la grazia. Ho fiducia in te. Amen. Oh, San Charbel, vaso profumato, intercedi per me. Oh, buon Dio, che hai onorato San Charbel, conferendogli la grazia di compiere i miracoli, abbi pietà di me e concedimi, per la sua intercessione, ciò per cui ti prego. A te l'onore, per sempre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetta è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.